al mare alla montagna ho individuato una tana di volpe e solo da una settimana non sono stato in grado di vederla e comunque stanno un sacco di escrementi tutti noccioli di ciliegio semi di fico e se ne ha mangiato un bel po' pure bellissima stavallata giornata ideale per fare escursioni e comunque soleggiata pure e sto respirando un bel po d'ossigeno un bacio d'occhioni verdi